Calano leggermente le donazioni, aumenta l'utilizzo di sangue. Questa è la situazione nel territorio dell'Ausa Romagnola, secondo i dati diffusi in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. Dal mondo sanitario arriva l'invito, come ogni inizio estate, a rinnovare il prezioso gesto, visto che nel periodo più caldo aumenta la richiesta. I dati forniti dal programma Sangue Plasma dell'Ausa della Romagna indicano che da gennaio a maggio 2017 le donazioni di sangue sono state 22.787, 145 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È invece lievemente aumentato il consumo di sangue che dalle 20.519 unità di globuli rossi concentrati del 2016 è incrementato di 30 sacche. Rispetto ai singoli territori, nei primi mesi dell'anno nel Cesenate si è assistito ad un aumento della domanda dei donatori. Nel Forlivese ci sono state 52 donazioni in meno rispetto all'anno scorso con un aumento del consumo. A Rimini si è raccolto più sangue a fronte di un aumento della necessità. Brusco calo invece di donatori e di richiesta nella Ravennate. Per quanto riguarda i nuovi donatori, nel 2016 sono stati 6.556 romagnoli che si sono presentati nei punti di raccolta sangue e di questi sono stati sottoposti per la prima volta a donazione in 4.874. Complessivamente il territorio dell'azienda USL della Romagna ha potuto contare nell'anno 2016 su 31.841 donatori periodici.